benissimo stremiati dice che siamo là innanzitutto diamo il benvenuto al nostro caro dottor Cariulo allora intanto mi scuso dottore perché l'altra volta ho fatto una storia su Instagram ho detto stasera ci sarà Alessandro Mancuso in realtà c'eri te ti chiedo scusa non so se te mi segui su Instagram no perché io Instagram non lo seguo tanto in generale quindi ti chiedo scusa davanti a tutti benvenuto grazie buonasera grazie a te Angelo e buonasera a tutti no non è comunque un problema perché anzi mi fa piacere che tu ci scambio con Alessandro Mancuso due professionisti insomma va bene allora ricordo che potete se volete sostenere il canale tramite gli stickers che trovate qui in chat basta poco tanti ciao Paola buonasera basta poco poco per uno fa male a nessuno tramite la lista di Amazon che trovate qui nell'infobox tramite produzione al basso quindi se volete sostenere il canale potete fare così d'accordo e intanto ringrazio Mattia che oggi mi ha spedito due film grazie Mattia io ti ringrazio infinitamente li ho mandati anche li ho fatti mandare a casa i miei genitori domenica me li portano perché vengono a mangiare grazie grazie mille davvero e grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e che continueranno a farlo quindi se volete volere potere potete sostenere il canale in questo modo allora niente parliamo di bestie satana seconda parte con il dottor Cariulo stasera Mario Gazzelli auguri anche a te intanto facciamo parlare Sandro di questo del satanismo delle sette e in particolare il modo delle bestie satana in quel di Varese mi sembra fosse Varese Milano di Vare sotto ok beh io ti lascio il microfono sai che il microfono è tutto tuo parla ti interromperò solo se avrò qualcosa da dire che argomento mi piace ma non l'ho mai approfondito ergo lascerò parlare chi se ne intende grazie ciao Federico grazie saluto Federico vedo che ci saluta perfetto prego tono stuo bene grazie grazie e intanto appunto dico come come diceva Angelo nel senso non solo lui mi può interrompere ma soprattutto voi fate pure domande io le vedo cerco di di vederle il più possibile in live insomma in diretta quindi cerco di rispondere anche a tutte quelle che possono essere le domande da parte vostra anzi mi fa piacere perché fare sempre un insomma un monologo e parlare sempre io insomma mi fa piacere che ci siano delle delle domande insomma in modo per per interagire allora come ha detto Angelo stasera è la seconda parte rispetto a quello che era l'introduzione che era stata fatta la volta la volta scorsa riguardo al satanismo quindi si è parlato un po' delle varie tipologie di satanismo dei vari tipi di rituali e avevamo iniziato a parlare di quelli che sono definiti insomma rituali di tipo esoterico e satanico ovvero rituali che vengono spesso praticati in luoghi particolari tipo per esempio aree geografiche particolari per esempio in Africa nell'America centrale e meridionale Caraibi insomma posti un po' particolari vedremo anche anche stasera insomma alcuni di queste di queste tipologie di di culti si definiscono proprio anche culti veri e propri e poi parleremo appunto delle scene del crimine e quindi delle tipologie di omicidi anche che si possono riscontrare nei rituali anche di tipo satanico e parleremo poi delle bestie di satana sarà il caso da affrontare un caso che ho avuto modo di studiare di approfondire insieme al collega e amico avvocato Alessandro Paci qualche anno fa che salutiamo anzi mi perdonami Alessandro interrombo ricordo che Alessandro sarà relatore al convegno al quale potete già iscrivervi però senza mandare solamente un centesimo perché dovremmo essere certi di poterlo fare quindi se volete contattate Barbara e mi sono detto che i posti sono limitati e non è una mostra di marketing ma perché proprio vogliamo stare larghi per non prendere il coronavirus quindi se avete una minima attenzione di partecipare o di venire chiamate Barbara non chiamate mandate un messaggio a Barbara su Whatsapp scusa Alessandro ma figurati anzi mi fa piacere che tu abbia puntualizzato questo aspetto insomma se riusciremo a fare come dicevi anche la volta scorsa in presenza questo convegno insomma sarà una cosa anche importante perché sarà una delle prime delle prime uscite anche pubbliche si potranno rifare quindi probabilmente anche per quello ecco quindi dicevo che stasera parleremo di questo parleremo delle bestie di Satana un argomento che ho potuto approfondire appunto come dicevo con il mio collega e amico Alessandro Paci avvocato abbiamo fatto uno studio insieme analizzando proprio tutti quelli che possono essere anche insomma gli atti visibili insomma e consultabili quindi dei processi delle scene del crimine e abbiamo cercato di fare una ricostruzione di quello che è stata l'attività proprio di questo gruppo di questo gruppo di diciamo satanisti acidi per riprendere un po' la definizione che abbiamo fatto la volta scorsa ovvero quello che può essere definito il satanismo giovanile quindi innanzitutto ripartiamo da quello che da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa ovvero dal da un culto particolare noi la volta la volta precedente avevamo affrontato alcuni alcuni culti molto violenti per esempio il palomaiombe il voodoo e adesso oggi stasera ricominciamo affrontando un culto che ha un nome un po' particolare si chiama Juju con la J J U J U e questo è un un culto molto molto violento anche questo che si è diffuso e si diffonde attualmente nella parte centrale dell'Africa proprio e si tratta di un culto che prevede la divinazione di alcune di una moltitudine di divinità quindi molti molte divinità che vengono appunto in qualche modo messe al centro di questo di questa tipologia di questo culto e sono si tratta di divinità che sono tutte secondo loro secondo questi sequaci insomma del culto sono governate da un essere che viene definito un essere supremo che è un simboleggiato da un serpente particolare da un pitone pitone quindi un serpente molto particolare molto specifico e diciamo in partenza è nato come un culto molto innocuo diciamo con qualcosa che non aveva a che fare quindi non aveva particolari legami con aspetti violenti che poi però con il passare del tempo ha incamerato all'interno del culto stesso proprio anche degli aspetti molto molto violenti c'è una facciata un pochino più diciamo pubblica dove ci sono proprio dei sacrifici anche di tipo animale soprattutto animale che vengono fatti all'interno di templi veri e propri quindi sono c'è un'apertura proprio anche anche al pubblico molto spesso si tratta di sacrifici un po' simbolici ovvero viene offerto del denaro viene offerto della frutta quindi cibo grano al massimo proprio nel caso più diciamo estremo dei piccoli animali quindi questi sono dei sacrifici che però vengono in qualche modo riconosciuti quindi anche a livello questo è un aspetto molto interessante molto importante perché questi culti vengono anche riconosciuti da queste società all'interno delle quali si diffondono quindi attenzione parlare di satanismo a volte si pensa a qualcosa di segreto di occulto non sempre qualche volta ci sono anche delle tipologie appunto di culti che invece hanno una parte anche più pubblica quella che è la parte un pochino del giu giu che è un pochino più io non so se si pronuncia giu giu o iu iu però diciamo a seconda un po' anche delle delle interpretazioni comunque come vi ho detto si scrive giu trattino giu e questa è la modalità con cui si scrive dicevo che appunto c'è una parte anche più occulta quindi più nascosta più segreta di questa tipologia di culto e che viene conosciuto viene riconosciuto soltanto da alcuni alcuni seguaci quindi ci deve essere una comprovata fedeltà per entrare a far parte proprio di questa parte ristretta e c'è proprio anche una specie di piccolo mercato di vendita di prodotti magici capaci di poter dare delle diciamo dei poteri a chi ne usufruisce o addirittura proprio anche del denaro quindi insomma cose anche abbastanza abbastanza materiali in alcuni parti soprattutto in in Nigeria vengono praticati proprio degli omicidi degli omicidi tipo rituale rituali legati a questo a questo yu yu è quasi impossibile però in questi casi arrivare ad un procedimento legale vero e proprio perché comunque c'è in qualche modo il diciamo c'è proprio una copertura anche da parte proprio delle istituzioni perché come dicevo prima alcuni di questi culti sono inseriti anche all'interno della società quindi è anche abbastanza difficile da condannare e quindi da portare anche a giudizio e a processo c'è proprio anche è previsto anche un sacrificio di tipo umano quindi effettuato attraverso un rituale molto di natura molto sadica nel quale un uomo e una donna vengono rapiti vengono lo so che è brutto da dire soprattutto però vi insomma vi preannuncio che ci saranno delle cose un pochino cruenti all'interno di questa di questa presentazione di questo di questo intervento di stasera purtroppo mi scuso però sono sono fatti sì ti interrompo un attimo Marco Riotti io sono satanista buon per te che devo dire vabbè d'altra parte parliamo anche di questo e anzi parliamo parliamo proprio del fenomeno quindi se c'è qualcuno che appunto ha queste queste inclinazioni queste tendenze non ci sono assolutamente cioè noi vero Angelo siamo no no il mio era semplicemente se lui è satanista io no tutto qui no è certo anch'io mi associo a te assolutamente però come dire il mondo è bello perché se Marco Riotti ha da dire qualcosa può tranquillamente intervenire nessun problema se ci mancherebbe altro anzi siamo qui proprio per scuse come dicevo appunto ci sono questi sacrifici umani in cui c'è un procedimento abbastanza cruento dove vengono rapiti un uomo e una donna quindi una coppia insieme vengono rapiti vengono spellati e sgozzati quindi è un qualcosa molto molto cruento molto terribile viene utilizzato il fegato per appunto offrire come come offerta alla divinità quindi come come sacrificio vero e proprio perché il fegato secondo loro racchiude lo spirito dello schiavo della della vittima in questo caso che viene offerta alla divinità quindi insomma è una procedimento è un culto molto molto violento questo ci spostiamo in un'altra in un'altra area diciamo della geografica ovvero attraversiamo l'oceano andiamo nella parte più diciamo dei caraibi queste zone queste zone qui ecco Marco posso posso rispondere Angelo a Marco ah questa qui dici no lo voglio far leggere a tutti noi sacrificiamo solo galline però no persone grazie per per aver specificato anche se chiamiamo le galline vabbè vabbè prego anche io ne ho anche tante quindi insomma ce l'hai? sì 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 quindi dai c'hai le galline davvero? sì davvero sì 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 eh rovo da matti io no ancora io no no è vero quindi conferma anche quello che dicevamo l'altra volta questa ovvero che i sacrifici che ci sono all'interno anche delle delle sette insomma per quanto riguarda il satanismo molto spesso per fortuna si sono delle diciamo si si fermano prima del sacrificio umano anche se come abbiamo già parlato altre volte insomma noi condanniamo anche il per quanto ci riguarda l'aspetto del sacrificio animale eh però sì sì ecco vero ok sì no poi come dire ognuno è libero di fare quel che vuole quindi non stiamo a giudicare chi fa chi o chi fa cosa no certo io non lo farei però assolutamente ognuno è libero di fare quel che vuole insomma certo assolutamente ehm ci dice appunto vedo che che Marco ci dice che non le possono mangiare perché qualcuno aveva aveva chiesto se poi mangiano le galline l'abbia chiesto la Bettina che salutiamo ciao Bettina ciao Debora buonasera a tutti ciao Debora ciao ehm quindi ecco diciamo che ehm ci spostiamo no come dicevo prima dall'Africa ci spostiamo verso ehm la parte diciamo centrale eh dell'America quindi eh e anche in alcune zone degli Stati Uniti per parlare della santeria che è una delle è uno dei culti più più conosciuti anche se se vogliamo eh il nome significa letteralmente il sentiero dei Santi eh si tratta di un culto che mischia degli elementi del culto proprio quello che abbiamo appena visto del eh yu yu dell'Africa centrale con alcune simbologie prese tra virgolette in prestito proprio dalla chiesa cattolica romana eh c'è un un sacerdote in questo caso che organizza proprio le cerimonie il cui scopo principale è proprio enfatizzare le gratifiche personali quindi una gratificazione a livello personale eh appunto l'obiettivo principale del culto è la distruzione proprio del nemico e il guadagno materiale personale proprio quindi ecco questo è eh è quello che eh che diciamo sta proprio alla base della della santeria per quanto riguarda il sacrificio di tipo eh rituale viene utilizzato a parte del sacerdote che ha un nome un po' particolare si chiama Babalawo eh usa un un pugnale diciamo molto particolare è definito proprio pugnale rituale perché è utilizzato in questi rituali molto eh molto molto specifico eh è un culto che si diffonde soprattutto si sta diffondendo anche proprio eh negli ultimi anni diciamo nell'ultimo nell'ultimo decennio decennio in città come per esempio Miami città dove eh ci sono molte eh culture di diverso tipo eh molte persone che eh comunque sono anche eh diciamo provengono anche da altre aree eh geografiche della della terra quindi si riunì diciamo si ritrovano in queste eh in queste grandi città degli Stati Uniti e soprattutto la cosa molto particolare è che a questo tipo di eh di culto a questa santeria aderiscono molti criminali cioè proprio criminali veri e propri quindi eh che cercano di eh appunto eh effettuare dei sacrifici per eh ottenere sia un guadagno proprio personale la distruzione dei nemici anche a livello proprio criminale quindi insomma questo è è un un aspetto diciamo particolare se vogliamo eh per identificarsi eh questi soggetti che fanno parte di questi di questi culti di questi sette diciamo o comunque gruppi eh che appunto eh praticano la santeria fanno si fanno dei si fanno fare dei eh piccoli tatuaggi sulle mani tatuaggi sulle mani che sono identificativi proprio del eh del gruppo a cui appartengono questo è un aspetto eh che viene utilizzato anche per quanto riguarda la criminalità organizzata non so se Angelo lo sai no del fatto di farsi comunque dei tatuaggi eh per riconoscere diciamo l'appartenenza ad un certo ad un certo allora so che questa eh questa pratica viene usata soprattutto eh Messico Peru Stati Uniti che ci sono diverse gang tipo eh la 14 c'è o non ricordo dove sono la 14 la 12 la 13 la K12 la K11 mi pare si chiamano così e le persone sono diciamo i membri sono identificati nello stesso carcere appunto tramite i tatuaggi esatto sì sì da lì si bide chi è soldato chi è il capo il capodecina eccetera eccetera infatti infatti anche qui proprio all'interno dell'organizzazione del gruppo della santeria eh i vari eh diciamo i vari tatuaggi rappresentano eh proprio la identificano la professione tra virgolette no il ruolo che che ricopre la persona all'interno del del gruppo per esempio ci sono dei tatuaggi che corrispondano a trafficanti di droga altri arrapitori di persone assassini cioè questo questo tipologico e ognuno ha il suo tatuaggio diciamo di riferimento eh gli omicidi rituali eh che si verificano in particolare nella nella città di Miami eh sono molto legati alla appunto alla santeria e sono una pratica anche eh diciamo possiamo definire abbastanza comune eh quindi anche se la eh polizia del posto quindi anche eh anche l'FBI indaga spesso su queste tipologie di di reati molto difficilmente riescono a capire eh diciamo chi so chi c'è dietro a a queste tipologie di di reato queste tipologie di proprio omicidi rituali specifici eh questo è dovuto ovviamente anche alla fitta rete di omertà che diciamo difende eh questa subcultura se vogliamo definirla così e eh c'è anche la paura proprio da parte delle persone che vivono intorno a queste eh a questi gruppi di poter far diventare poi le prossime vittime quindi c'è questo eh proprio un classico si diceva anche l'altra volta no Angelo che proprio si può alcune cose si possono proprio diciamo ricondurre anche proprio alla criminalità organizzata certo certo delle tecniche delle tecniche molto molto simile ci sono degli omicidi rituali riconducibili alla santeria anche in altri stati degli stati uniti per esempio soprattutto in Texas in Connecticut a New York e in New Jersey quindi eh anche in questi stati sono stati documentati proprio degli omicidi rituali riconducibili alla santeria al culto della santeria eh una c'è poi un a Cuba quindi eh una variante diciamo cubana ora appunto si parla di varianti eh in riferimento al al covid al covid sì eh qui in questo caso diciamo la variante è il riferimento alla santeria c'è una variante della della santeria che si chiama Abacqua eh che eh insomma anche questa abbastanza cruenta come eh come tipologia insomma di eh di comportamenti che vengono eh messi in atto proprio dai dai soggetti che fanno parte di questi gruppi eh c'è una mh all'interno della Bacqua c'è un una cerimonia principale che si chiama non a caso las matanzas ora io mi scuso per la pronuncia e non so se lo spagnolo non è proprio diciamo il mio forte però ecco è il massacro letteralmente no? quindi fa capire eh bene o male a che cosa insomma si va incontro ecco durante proprio questa questo massacro questo rito cerimoniale le vittime sono sottoposte molto spesso a torture di ogni tipo e soprattutto ad atti di cannibalismo rituale ora qui c'è appunto da aprire una piccola parentesi che chiuderemo diciamo in breve però insomma per quanto per quanto riguarda il cannibalismo ci sono diversi tipi di cannibalismo noi ne abbiamo parlato a volte anche in riferimento ai serial killer per esempio di tipo sessuale serial killer lussuriosi i last murder che mettono in atto dei comportamenti di cannibalismo per soddisfare dei loro impulsi di tipo parafilico di tipo sessuale questa tipologia è una tipologia di cannibalismo ma ce ne sono molte altre c'è per esempio il cannibalismo rituale che è questo appunto che viene messo in atto dal dalla maggior parte di questi di questi culti cioè dalla maggior parte da alcuni di loro in particolare allora vedo che Marco Riosi scrive Tempio di Seth Stati Uniti Tempio di Nemptis Stati Uniti e infatti abbiamo affinità con loro sì sono alcune delle delle sette diciamo delle organizzazioni se così vogliamo vogliamo dire riconosciute mentre vedo scusa Angelo se ti anticipo vedo le commenti quindi vedo commento sempre di Marco che cita Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer sì sì vai tranquillo mi dispiace sì sì vai tranquillo ok Jeffrey Dahmer in effetti metteva in atto delle un atto cannibalismo cannibalismo però di un tipo un po' particolare ovvero lui mangiava sciocco no scusa la battuta prego come è vero così mangiava il simbito ci stava era un cannibalismo di tipo si può definire in qualche modo appunto come dicevo prima non tanto sessuale quanto di assumere la sua vittima per non perderla perché facesse sempre parte di lui questo a quanto insomma poi ha dichiarato dopo essere stato condannato insomma in seguito però non si tratta di cannibalismo rituale cannibalismo rituale è un qualcosa di diverso qualcosa appunto viene inserito all'interno per esempio di cerimonie particolari come è la cerimonia della smattanzas della vacua quindi è sicuramente una tipologia proprio di rituale quindi diciamo che ci sono alcuni alcuni gruppi diciamo che hanno messo in atto proprio questo tipo di culto e sono diventati poi tra virgolette famosi a livello anche criminologico uno è la setta per esempio omicida di Costanzo e Andrete che dopo vedremo perché analizzeremo qualche caso in particolare che in Messico appunto hanno fatto diverse vittime veramente più mi sembra oltre 35 vittime se non vado errato e comunque molte anche molte di più che basava proprio i suoi rituali su questa vacua insieme a alcuni elementi per esempio del palomaiombe della santeria mischiando insieme questi culti tutti molto violenti ecco c'è poi un altro un altro culto che si chiama Brugeria Brugeria e il nome deriva dalla parola che in spagnolo vuol dire stregoneria è un miscuglio di antichi culti aztechi e anche di alcuni aspetti della chiesa cattolica quindi come vedete ci sono poi dei ritorni cioè degli elementi che vengono ripresi dalla chiesa cattolica dai rituali comunque cattolici ecco anche questo è un aspetto insomma secondo me interessante che va sottolineato in questo caso della Brugeria la divinità principale è una donna che si chiama Nostra Signora di Guadalupe e è un tipo di culto molto diffuso in tutto il Messico e soprattutto in quelli che sono gli Stati Uniti della parte sud-occidentale intanto saluto saluto Henry62 buonasera mi accorso saluti grazie ciao Henry l'ho visto nel chat insomma nei commenti e gli adepti della Brugeria praticano proprio il sacrificio umano ricalcando quello che era il vecchio modello insomma l'antico modello azteco in cui viene estratto il cuore della vittima ancora palpitante è uno delle delle scene che si ricorda di uno degli Indiana Jones dei film di Indiana Jones non so se qualcuno insomma se lo ricorda è la scena classica ecco era un culto di tipo azteco e questa Brugeria riprende proprio ecco mi dice non so non so chi è perché ok è la Bettina Bettina che si pronuncia Brugeria ok ok Brugeria così va bene perfetto ti ringrazio per Bettina se vuoi entrare a video entri e ce lo pronunci te dal vivo va bene grazie mille no è vero perché sono tutte termini che comunque spagnoli o comunque di altre altre lingue è anche ancora ancora più difficile quindi gli adepti comunque come dicevo praticano questo culto questo insomma sacrificio in questo modo rituale molto particolare e negli anni 70-80 in particolare nel Messico ci fu proprio un numero molto elevato una lunga scia di omicidi rimasti risolti che proprio riportavano come tratto distintivo proprio l'asportazione del cuore quindi insomma ecco questo è un elemento se vogliamo ritornare a quello che si diceva l'altra volta quando un delitto rituale può essere di tipo di tipo appunto satanico o culto o comunque esoterico o rituale privato diciamo personale ecco in questo caso c'è un elemento molto significativo cioè l'asportazione del cuore in questo modo che diciamo è proprio attribuibile senza diciamo sì comunque con pochi dubbi a questo tipo di culto quindi ecco è una specie di firma del culto che identifica questo questa specie di appunto di pratica molto particolare giustamente Henry mi dice che strega in spagnolo è bruca se lo pronuncio bene appunto io non ho mai studiato spagnolo quindi non so come si pronunciano però vi ringrazio io non posso aiutarti non so nemmeno l'italiano tra poco no sì no e arriviamo poi a un altro culto interessante e molto diciamo conosciuto vedremo se è proprio così che effettivamente è come è conosciuto oppure c'è qualcosa di diverso ovvero la macumba in Brasile esistono diversi riti che mischiano la cultura africana con quella brasiliana e sono chiamati in modo abbastanza generico macumba la divinità principale corrisponde che viene adorata in qualche modo è una specie di è quello che viene identificato come il diavolo quindi non a caso appunto si associa al satanismo come tipologia di culto viene praticato anche il sacrificio di esseri umani in particolare un sacrificio molto brutto insomma molto tremendo ovvero quello di bambini di minori quindi è insomma un qualcosa di veramente orribile le cerimonie di solito iniziano con l'offerta di cibi di vario tipo che vengono messi in dei recipienti solitamente di terracotta per ringraziarsi quindi le entità sataniche e propiziare il successo dell'offerta che è quella più importante ovvero la vita di un essere umano in particolare di un minore molto spesso prima però del sacrificio umano vengono sacrificati anche alcuni animali in particolare si parla di capretti quindi capre galline nere nello specifico proprio devono essere nere e conigli ma in ogni caso possono andare bene tra virgolette anche anche le galline i galli a volte anche uccisi insieme cioè tutti insieme quindi non è importante tanto il colore però è la tipologia in qualche modo di appunto di animale ecco che con questo concludiamo la macumba ecco solitamente a che cosa si associa si associa a una specie di maleficio che viene fatto sulle persone in realtà appunto questo è un culto un po' diverso da quello che ci si immagina e si possa associare al termine macumba ecco con questo concludiamo il nostro escursus il nostro viaggio all'interno di quelli di quelli che appunto possono essere i culti un po' più legati all'aspetto di di satanismo intanto saluto Stefano Iacono che dice io abito sul passo di San Francesco indovinate l'altitudine che il municipio ha scritto sul segnale 666 ecco quindi per ritornare insomma alla simbologia di cui si parlava l'altra volta quindi la simbologia di satanismo che si parlava l'altra volta arrivato a questo punto parliamo un po' anche della tipologia di gruppi cioè come sono composti questi questi gruppi allora innanzitutto ci possono essere satanisti singoli o satanisti in gruppo perché questo è da diciamo da mettere in evidenza perché comunque ci sono varie tipologie di composizione di gruppi varie tipologie di satanismo l'altra volta abbiamo parlato di un satanismo formale faccio per riassumere in brevissimo i concetti diciamo più più importanti un satanismo formale a cui avevamo associato satanismo razionalista occultista e luciferismo quindi una ritualità precisa dei numeri dei simboli cerimonie molto formali che proprio rispecchiano quello che è il rituale specifico della tipologia di satanismo a cui si appunto ci si riferisce poi c'è lo pseudosatanismo ovvero quello che può essere definito come satanismo acido satanismo giovanile soggetti anche singoli che mettono in atto dei rituali singoli loro e cerimonie con caratteristiche molto peculiari quindi in questo caso è presente del satanismo però non c'è qualcosa di ufficiale non c'è qualcosa che si può ricondurre a un gruppo organizzato a qualcosa in genere sono persone singole al massimo possono essere in coppia però non di più è difficile che si abbia delle tipologie certo si possono avere poi lo vedremo il satanismo acido ci sono anche soggetti anche più di due soggetti lo vedremo con l'analisi del gruppo delle bestie di satana però ecco come dicevo prima ci sono diverse diverse tipologie di organizzazione proprio di gruppo c'è il satanista singolo in genere sono soggetti che possono avere anche delle psicosi quindi possono avere dei deliri delle allucinazioni vedremo poi tra breve alcuni casi per esempio quello di Robert Berdella di Richard Ramirez di Klaus il vampiro di Parigi soprannominato così perché appunto era attratto dal sangue non solo quello delle sue vittime ma anche il proprio quindi poi vedremo poi i satanisti che possono invece agire in coppia molto spesso sono coppie di amici a volte possono essere anche coppie di familiari per esempio fratelli cugini oppure padre e figlio ci sono sono rari sono casi molto rari però ci possono essere poi c'è il piccolo gruppo formato quindi da tre o quattro persone al massimo un esempio sono gli squartatori di Chicago che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato la volta scorsa con i loro rituali molto insomma particolari e precisi il medio gruppo da cinque a otto persone e il grande gruppo oltre quindi le otto persone anche molto oltre ci possono essere anche venti persone che compongono un gruppo una setta satanica quindi insomma questi sono diciamo le tipologie di soggetti che possono appunto mettere in atto il satanismo proprio per riportare alcuni esempi di satanisti singoli soggetti che hanno agito da soli riporto alcuni casi che ho individuato all'interno del libro proprio sette sataniche di Mastronardi De Luca e Fiori ormai un po' datato mi sembra sia del 2005 ti ringrazio Marco grazie mille e allora dicevo sono un po' datato però comunque sono fatti che sono successi quindi non è che si va a dire cose che devono essere aggiornate parliamo innanzitutto del primo caso che tratteremo insomma stasera di satanismo singolo ovvero quello di un ragazzo di 17 anni ben 17 anni soltanto 17 anni Sean Sellers si chiama un soggetto appassionato di occultismo che era solito uscire anche fuori di casa con un abbigliamento un po' particolare molto scuro sempre vestito di nero comportamenti anche molto bizzarri quindi un soggetto che veniva anche notato quindi non non che passava inosservato soggetto che molto diciamo in modo molto bizzarro girava con delle fialette all'interno per esempio nella tasca del suo giubbotto insomma dei suoi vestiti fialette all'interno delle quali c'era del suo sangue che beveva ogni tanto si metteva a bere il suo sangue e la sua diciamo la sua carriera criminale prevede l'uccisione di un negoziante che si era rifiutato di dargli una birra di vendergli una birra quindi lui l'aveva ucciso e poi uccide la madre e il patrigno quindi omicidi anche se vogliamo che non c'entrano tanto con quello che può essere il classico sacrificio che si può pensare no del di quello che può essere appunto il il satanismo classico quindi è un qualcosa di diverso lui era un soggetto appassionato di occultismo appassionato di satanismo che però uccide in modo molto se vogliamo anche impulsivo uccide un negoziante uccide la madre uccide il patrigno insomma molto molto impulsivo un altro soggetto come dicevo prima questo è un serial killer a tutti gli effetti abbastanza noto so se qualcuno di voi lo conoscerà Robert Berdella è un serial killer di Kansas City che aveva un negozio in cui vendeva degli articoli proprio legati al satanismo e anche all'occultismo è un soggetto che tortura e uccide 14 giovani ragazzi e conserva i loro crani quindi diciamo lo scheletro della loro della loro testa che utilizza proprio all'interno di rituali però personali che mette in atto lui cioè non sono rituali riconosciuti da nessuno sono cose che faceva lui che riteneva lui che fossero rituali satanici ma in realtà erano suoi rituali personali Revenant 9 mi scrive le veste di Satana per come la vedo io non sono non sono mai esistite ecco questo mi farebbe piacere dopo parlarne perché comunque parleremo di questo e parleremo anche di proprio di questa cosa che ha detto Revenant 9 perché insomma è insomma un qualcosa su cui abbiamo anche ci siamo focalizzati anche sul nostro studio quindi insomma dopo vedremo vedremo un po' ne parleremo e ti chiedo se magari dopo puoi appunto farmi anche qualche domanda specifica magari ne possiamo possiamo parlare buonasera a Gianni allora dicevo un altro soggetto che ciao Gianni buonasera ciao in qualche modo è riconducibile al satanismo praticato da un soggetto un soggetto quindi singolo è Richard Ramirez il class il così il esatto Marco era Robert Berdella era soprannominato il macellario di Kansas City mentre Richard Ramirez era soprannominato Night Stalker che in realtà ho scoperto da insomma non tanto tempo insomma quando ho studiato il caso di Joseph De Angelo il serial killer che è stato arrestato pochi anni fa dopo aver ucciso aver aggredito più di 50 persone averne uccise 13 tra il 74 e l'85 85-86 se non sbaglio era lui in realtà che veniva soprannominato The Night Stalker e poi in seguito anche Richard Ramirez fu soprannominato nello stesso modo quindi The Night Stalker tanto che Joseph De Angelo che è stato riconosciuto come serial killer soltanto da pochi anni quindi nel 2018 è stato arrestato se non sbaglio vado un pochino così a memoria è stato nominato The Original Night Stalker perché in realtà è venuto prima lui di Richard Ramirez comunque Richard Ramirez uccide 16 persone in California e dice di essere il discepolo di Satana alcuni dei suoi delitti prevedono proprio la simbologia satanista quindi pentacoli lasciati disegnati sulle pareti dei simboli lasciati sui corpi delle vittime cioè tracciati proprio con con degli strumenti affilati sui corpi delle vittime però anche in questo caso non si tratta di rituali satanici ufficiali e formali è un qualcosa che lui faceva però era una sua cosa diciamo personale c'è poi quello che vi dicevo prima avevo accennato prima il vampiro di Parigi Nicolas Clouks era un soggetto appassionato di occultismo che inizialmente inizia andando per i cimiteri addirittura lui era al solito dormire nei cimiteri e arriva anche a rubare dei cadaveri proprio da questi cimiteri e alla fine viene arrestato perché viene trovato in casa un cadavere di una persona e dichiara di averla uccisa però che quello era stato l'unico delitto che lui aveva commesso in realtà negli altri casi aveva rubato dei cadaveri quindi era stato il primo omicidio ora questo non è chiaro in realtà ci sono sospetti che possa essere stato coinvolto in altri delitti quindi questo non si sa comunque è un satanista praticante lui si dichiara proprio un satanista praticante e all'interno della sua abitazione sono stati ritrovati molti oggetti proprio riconducibili a quella che era la sua diciamo appunto la sua passione per l'occultismo e per il satanismo quindi degli altari delle cose particolari come giustamente allora Henry62 mi chiede mi domanda l'esoterismo è la causa dei delitti o piuttosto una conseguenza di delitti perpetrati per altri motivi che poi si rivestono di esoterismo è una domanda interessantissima e anche se vogliamo fondamentale per quello di cui stiamo parlando stasera è una domanda interessante perché in alcuni casi soprattutto per quanto riguarda queste sono diciamo mie conclusioni anche fatte in base a quelli che sono stati i miei studi sui casi specifici per alcuni casi c'è proprio una per esempio il satanismo acido il satanismo giovanile è molto più probabile la seconda parte della tua domanda ovvero delitti perpetrati per altri motivi che poi si rivestono di esoterismo questo non voglio anticipare niente della seconda parte insomma della nostra nostro intervento però questo è quello che secondo me e secondo insomma anche il mio collega Alessandro Paci è accaduto all'interno delle bestie di satana ovvero delitti che sono stati loro hanno passato per esoterici o comunque legati all'esoterismo ma in realtà nascondevano altre cose dietro si trattava di delitti un po' proprio della classica tra virgolette criminalità organizzata quindi per far stare a tacere delle persone che probabilmente avevano individuato come soggetti che potevano in qualche modo parlare all'esterno di quello che facevano loro in privato quindi insomma questo è sicuramente una domanda molto ecco questo per quanto riguarda sicuramente i satanisti acidi giovani cioè il satanismo giovanile quello che è associato anche a la pratica insomma al consumo di alcol droga sesso violento tutto questa questa somma di fattori può portare a degli omicidi che vengono rivestiti di esoterismo ma in realtà di esoterismo non c'è niente o quasi c'è veramente poco l'esoterismo è la causa dei delitti diciamo che in alcuni casi in alcuni rituali in alcune tipologie per esempio quei rituali di cui si parlava prima quelli africani comunque anche dell'America centrale dell'America meridionale in quel caso diciamo è proprio il fatto di aderire a un culto di aderire a qualcosa che in qualche modo si diciamo porta poi e causa dei delitti porta alla pratica dei delitti è chiaro che comunque ci devono essere anche delle predisposizioni a livello anche di personalità di soggetti che comunque hanno una certa predisposizione per fare una certa cosa perché comunque non tutti hanno appunto la diciamo quella spinta per commettere un omicidio ecco assolutamente no allora Marco Rioti mi dice anche il night stalker era un statico psicopatico che niente aveva a che fare con il satanismo e il esoterismo io sono pienamente d'accordo con te perché anche io infatti li ho riportato dei casi di satanisti singoli o meglio di come si definiscono loro soggetti che hanno agito da soli che sono definiti satanisti un altro l'abbiamo visto l'altra volta e poi però lui ha confessato che era tutta una montatura abbiamo visto un po' l'altra volta con Angelo David Berkovitz il figlio di Sam anche lui che diceva di uccidere in base a quello che gli diceva un demone che risiedeva all'interno del cane del vicino e parlava attraverso il cane del vicino quindi lui diceva che era tutto legato al quanto insomma ci poteva poteva essere insomma di satanismo in realtà poi dopo ha confessato erano tutte cose che aveva detto per cercare di trovare insomma di ricercare l'infermità mentale quindi insomma anche lì non c'era del satanismo ecco perché dico di stare attenti quando si parla di delitti rituali e satanismo e delitti satanici non sempre è come appare la situazione insomma ci sono poi i satanisti che agiscono in piccolo gruppo c'è per esempio un soggetto si chiama Stevenard aveva 20 anni e insieme a una ragazza e altri uno due tre ragazzi a seconda delle volte formavano una piccola setta satanica vivevano nelle fogne di alcune delle città degli Stati Uniti e facevano dei sacrifici animali e anche umani mutilando brutalmente i corpi delle vittime che poi sacrificavano in cerimonie con tanto di altare su quale appunto venivano immolate le vittime un altro caso è quello di Harold Smith allora rispondo un attimo a per quanto riguarda vedo che ci sono delle domande giustamente Marco Marco Rioti mi dice si cercavano di giustificare le proprie azioni criminali sì in alcuni casi è vero è così si cerca di giustificare le proprie azioni criminali con appunto riportando delle motivazioni di tipo di tipo appunto satanico rituale Paola Palazzini invece mi dice satanismo esoterismo non credo siano proprio sovrapponibili no è vero sono due concetti che in qualche modo si legano però non sono la stessa cosa non sono sicuramente uno il sinonimo dell'altro abbiamo visto anche l'altra volta occultismo satanismo esoterismo sono concetti diversi che si diciamo si intrecciano però non non sono sovrapponibili assolutamente sono legati inevitabilmente poi anche Paola mi dice per me il duplice delitto di Fabio Tollis e Chiara Marino è un autosacrificio allora su questo mi insomma diciamo mi riservo di rispondere più tardi dico dico che per quanto mi riguarda non è così per i dati che abbiamo analizzato e per la scena del crimine che abbiamo analizzato per quelle che sono state anche le testimonianze riportate da alcuni soggetti e date come come attendibili però insomma queste sono sempre cose che vanno prese con le molle perché insomma si sa che può essere vero tutto il contrario di tutto quindi insomma però ecco dalla ricostruzione che abbiamo fatto noi ecco di diciamo di autosacrificio non si può non si può parlare nel caso del del duplice omicidio di Fabio Tollis e Chiara Marino secondo noi però insomma poi vedremo dicevo ci sono altri satanisti in piccolo gruppo per esempio Harold Smith 19 anni molto giovane anche lui fonda una sua setta in Texas con altri tre amici le vittime prima di essere uccise in questo caso venivano torturate picchiate in modo molto selvaggio e praticati degli squarci su tutto il corpo quindi con un coltello venivano asportate alcune parti del corpo in particolare gli occhi e bruciati i capelli fino allo scalpo quindi c'era proprio una procedura diciamo proprio rituale l'uccisione avviene attraverso strangolamento oppure a volte con colpi di pistola o pugnale la firma del gruppo è un pentacolo e la cifra il 666 sui cadaveri delle proprie vittime quindi insomma anche questo è un insomma sono dei delitti molto molto rituali molto schematizzati ecco se così vogliamo che seguono uno schema molto preciso infine un altro gruppo quello di Tex Rishen che fonda nel Wisconsin quelle che vengono chiamate i Dragoni di Satana è un gruppo fondato su una gerarchia molto molto rigida aveva una cioè si riunivano periodicamente questi soggetti e per entrare a farne parte i nuovi membri dovevano superare alcune prove di coraggio e scegliere una vittima da picchiare e rapinare le vittime diciamo sacrificali venivano proprio torturate e pugnalate ripetutamente prima di essere mutilate su tutto il corpo fino anche ad arrivare alla castrazione nel caso degli uomini non ti sento Angelo sei sei ecco no mi ero ammutato mi ero ammutato perché stavo seguendo come spettatore tuttora stai dicendo che è molto interessante e quindi prima ti volevo chiedere se innanzitutto per te andava bene lasciare libera questa trasmissione usufruibile per tutti e non solo per gli abbonati anche la puntata scorsa perché credo siano cose che in tanti debbano sapere se a te va bene naturalmente a me guarda io te lo cioè per me benissimo anzi meglio poi ecco che poi io voglio dire un'altra cosa ho visto che sono stati nominati da alcune persone Chiara e Fabio Tollis vorrei che parlaste non per sentito dire ma per per cose sapute realmente cioè anche perché il papà di Fabio sono quasi certo che ci sta seguendo perché l'ho invitato quindi se dobbiamo parlare di persone morte parliamo di persone soprattutto noi lo facciamo per ricordarle poi gli atti giudiziari ci diranno quel che è successo o meno qui non non lo stiamo andando sono stati presi i protagonisti cioè le persone che hanno non è il mostro di Firenze d'accordo volevo ci dire questo e saluto saluto Michele se Michele Tollis sta guardando questo video rimane un grande abbraccio prego grazie Angelo mi associo anche io a quello che hai detto e saluto Michele se ci sta seguendo perché comunque io parlo anche a nome del mio collega Alessandro Paci quando ci siamo trovati a studiare il caso ci siamo veramente molto sentiti molto vicini a lui e a tutti quelli che sono stati coinvolti nella vicenda nel cercare di capire anche come come ci si può sentire quando si è coinvolti in una vicenda del genere non ci dimentichiamo che le le bestie di Satana se esistono non esistono non si sa comunque i quei reati sono stati fatti sono stati commessi ci sono delle vittime che sono state individuati quindi i responsabili e se questo è stato possibile è stato possibile grazie a una persona che si chiama Michele Tollis quindi insomma questo bisogna bisogna riconoscerlo perché lui ha veramente dato la vita per cercare di capire cosa era successo quando ancora nessuno neanche sospettava che ci fosse stato degli omicidi quindi insomma bisogna bisogna pensarci un po' devo dire devo dire e non perché io sia innamorato perché io sono innamorato da Sciarelli voi lo sapete tutti che ai tempi se non sbaglio non mi ricordo se ai tempi c'era già lei a presentare c'era un'altra persona scusa Deborah ma tu lo conosci personalmente ora non cominciamo non credo che Deborah lo conosca ma insomma vabbè non è quello l'importante che chi l'ha visto fu uno dei primi programmi se non il primo programma ad andare a fare le interviste te la ricordi quella famosa intervista che a me mette i brividi di quella a Dozzi a non mi ricordo come si chiamavano non c'erano Andrea Volpe c'erano altri c'erano altri però era all'esterno del locale che praticamente è il midnight allora loro sembra secondo quanto è riportato sui verbali quindi insomma queste sono cose che sono all'interno dei verbali loro si erano per dichiarazione tra l'altro di Andrea Volpe loro si erano preparati a fare quell'intervista quella sera loro non è che erano lì per caldo loro sapevano che ci sarebbe stato chi l'ha visto sapevano chi parlava cosa diceva ah ok addirittura era tutto costruito sì volevo rispondere a reverente sbagli a parlare così dovresti parlare così forse delle iene ma chi l'ha visto è uno dei programmi seri da quando l'ha preso in mano Lasciarelli però vabbè ognuno è libero di guardare quelle vuole questa una domanda simile non è merito proprio una risposta infatti Deborah per favore non rispondere non sarà rispondendo come facevano loro a sapere che sarebbe andato chi l'ha visto perché sapevano che c'era che c'era comunque questo discorso adesso sai comunque si sa che magari in questi posti anche piccoli di paese di provincia si sapeva che ci sarebbero c'era un movimento perché comunque il padre appunto di di Tollis aveva smosso già un pochino le acque si sapeva che c'era questo movimento e loro sapevano che quella sera sarebbe andato chi l'ha visto a fare quelle interviste fuori dal locale ovviamente non sapevano chi avrebbero intervistato ma loro si sono fatti trovare lì per essere intervistati loro cioè loro nello specifico e chi ha parlato si era costruito il discorso quindi insomma questo per far capire che tipologia di persone erano ecco e sono insomma perché sono ancora stanno cominciando a uscire ecco questo per per insomma per far capire che tipologia di organizzazione anche c'era dietro no quindi quindi non era niente di di improvvisato di fatto così a caso c'era proprio un'organizzazione importante comunque detto questo tornando al nostro discorso quelle che erano quelle che sono diciamo le sette un pochino più grandi quindi con più persone c'è da ricordare per esempio una setta nata in Grecia è formata da una ventina di soggetti guidata da Asimakis Katsulas scusate il nome ma è proprio questo si chiama così infatti 19 anni anche lui molto giovane quindi prima venivano effettuati dei sacrifici di tipo di tipo animale poi si passa a dei sacrifici umani a partire dal 1992 quindi qualche anno dopo la nascita insomma della setta le cerimonie avvengono ovviamente in posti per esempio in case disabitate posti molto isolati e il leader finge di avere quindi questo Asimakis finge di avere delle personalità multiple quindi di essere una volta una persona una volta un'altra di essere posseduto da dei demoni solitamente cosa succede vengono rapite delle donne e delle ragazze portate in mezzo a boschi denudate ammanettate violentate infine strangolate e questi erano gli omicidi diciamo rituali legati a questa setta c'è poi la setta del movimento delle 4P movimento 4P non so se Marco che appunto è più dentro a queste vicende magari ne sa qualcosa e che prevedevano appunto dei rituali satanici e quindi sacrifici anche proprio umani con il cuore per esempio estratto dalle vittime come si era visto anche negli altri culti che avevamo analizzato in precedenza e assunzione anche di sangue e asportazione delle dita anche delle vittime che venivano anche conservate quindi anche come trofeo se vogliamo poi c'è un'altra setta in Messico in questo caso la leader è una donna Magdalena Solis sacerdotessa quindi di questa setta del Messico in questo caso venivano uccisi i membri della setta che davano segni di cedimento ecco che qui ritorna il discorso di prima i delitti all'interno delle sette non sono sempre legati soltanto al satanismo ma sono legati anche a qualcos'altro in questo caso venivano uccise le persone che in qualche modo davano segni di cedimento nel senso che comunque potevano diciamo parlare all'esterno di quello che facevano loro all'interno della setta quella che avevamo visto anche prima in riferimento alla bacua ovvero la setta di Adolfo De Jesus Costanzo e Sara Aldrete questi due soggetti che per un certo periodo hanno una relazione anche sessuale tra loro poi però Costanzo era omosessuale quindi preferiva relazioni con uomini comunque loro rimangono all'interno all'interno di quello che è insomma questa setta che fondano è una setta che nasce e si sviluppa in Messico e mettono in atto rituali di vario tipo che appunto possono essere ricondotti a quelli che abbiamo visto prima quindi voodoo santeria paloma yombe eccetera e hanno anche un profitto economico perché si facevano dare i soldi dagli adepti quindi questo è un altro aspetto delle sette che non solo di quelle diciamo sataniche ma anche delle psicosette ovvero di quei gruppi all'interno dei quali vengono introdotte delle persone magari anche fragili da un punto di vista psicologico di vita vissuta di problematiche a livello proprio personale che vengono avvicinati da questi leader molto carismatici si fanno dare i soldi tutto quello che hanno e in qualche modo poi appunto c'è anche un ricavo economico per quanto riguarda il leader allora Henry62 mi chiede l'esoterismo può avere una connotazione politica l'approccio iniziatico potrebbe rendere più sensibile al fascino dell'esoterismo che ha una visione mistica della vita allora l'esoterismo può avere una connotazione politica questo non lo so nel senso non posso non posso dire né sì né no ci sono delle insomma organizzazioni si conoscono per sentito dire anche per quanto riguarda anche per esempio la massoneria quello che sono i rituali all'interno della massoneria in alcuni anche sottogruppi massonici se vogliamo quindi questo non è assolutamente non si può assolutamente escludere questo no l'approccio iniziatico potrebbe rendere più sensibile al fascino dell'esoterismo che ha una visione mistica della vita anche questo assolutamente sì perché gli aspetti l'aspetto comunque psicologico è molto importante in questi casi insomma in questi soggetti che si rendono un pochino più fragili no come come si diceva si diceva anche anche poco fa insomma ecco questo questo è in qualche modo può essere può essere sì quindi la risposta è può essere cioè generalmente quando ci sono questi diciamo capisetta no che creano la seta appunto proprio perché tu l'hai chiamato l'altra volta se non sbaglio satanisti professionisti sì ci sono anche che traggono dei vantaggi economici dalle persone ne fanno parte io so che negli Stati Uniti ci sono alcuni che sono molto ricchi perché hanno preso tanti soldi alle persone che facevano parte e fanno tutta la parte della seta certo sì sì è vero infatti c'è anche questo e questo è un aspetto che sicuramente è da mettere in evidenza per quanto riguarda il satanismo se ci viene appunto chiesto se il satanismo quando è nato da quanti non si sa precisamente perché comunque ci sono ci sono documenti diciamo anche a livello proprio storico che riportano delitti rituali o comunque di tipo legate all'occultismo se così vogliamo chiamarlo di molto tempo fa insomma Gilderet per esempio il generale Gilderet che uccideva i giovani ragazzi in Francia dopo averli violentati per sacrificarli a un demone che lui cercava di evocare per avere il benessere massimo insomma il suo profitto personale Esbeth Bathory per esempio Bathory come alcuni chiamano Bathory alcuni Bathory la contessa assassina quindi una donna molto sadica che uccideva giovani ragazzi c'è una leggenda perché questo ancora questo non è stato provato cioè ci sono le cronache che parlano di questi bagni che lei faceva nel sangue delle vittime femminili per conservare il suo diciamo il benessere della sua pelle che la sua pelle rimanesse giovane ecco lei aveva questa questa specie di delirio appunto una psicosi vera e propria se fosse stata così però diciamo in questo caso non ci sono state prove le prove sono che la contessa comunque ha ucciso veramente centinaia di giovani donne giovani ragazze che sparivano dai villaggi intorno al castello della contessa e non si sapeva e fino avevano fatto poi fu fu scoperto ci sono poi anche dei possibili qui metto possibili perché ci sono tantissime cioè non ci sono certezze in questo caso che si tratti di delitti rituali tipo legato all'occultismo comunque al satanismo all'esoterismo però comunque al femminile c'è una in particolare una un'assassina spagnola Enricheta Marti che fu accusata di aver ucciso diversi bambini per fabbricare delle pozioni per curare il insomma delle malattie quindi per curare il male diciamo lo stesso Leonardo Cianciulli la saponificatrice di Correggio che sicuramente conoscerete uccideva e faceva a pezzi le sue vittime ah ecco Deborah mi dice occhio che Labatoly forse è stata vittima della propaganda politica del tempo è vero ci sono anche queste diciamo c'è anche questa teoria quindi sul fatto che in realtà fosse stata incastrata da quelli che erano i suoi diciamo rivali o comunque chi la voleva in qualche modo estromettere dal appunto dalla posizione che occupava c'è anche questa teoria comunque dicevo per tornare a Leonardo Cianciulli lei la saponificatrice di Correggio famosissima in Italia ma non solo lei uccideva convinta almeno così dichiarò lei che avrebbe preservato la salute dei suoi quattro figli quindi uccidendo poteva in qualche modo preservare la salute dei suoi quattro figli ora in realtà anche questo potrebbe essere benissimo come si diceva prima con Marco una giustificazione per un crimine questo assolutamente sì però ecco diciamo che anche da parte sua ci sono state delle dichiarazioni in questo senso poi ci sono per esempio i casi delle due avvelenatrici siciliane Giovanna Bonanno e Giulia Tofana che tra il 1600 la seconda e il 1700 la prima erano delle vere e proprie fattucchiere avvelenatrici che avevano in qualche modo anche erano state accusate di stregoneria quindi di fare dei rituali particolari anche in presenza appunto delle vittime insomma era qualcosa di particolare questi sono tutti i casi che non sono stati accertati legami con il satanismo occultismo o esoterismo quindi però è per far capire che anche al femminile ci possono essere dei soggetti che mettono in atto questi tipi di comportamenti quali possono essere per concludere le caratteristiche prima di parlare delle bestie di satana le caratteristiche dei delitti rituali a carattere esoterico o satanico innanzitutto la scelta della vittima in base allo scopo della cerimonia quindi le cerimonie hanno ogni cerimonia ha una vittima sì Alessandro ti posso sentire un attimo devo scendere a prendere le pitticine se no poi me ne scordo ti lascio due minuti a solo poi ti mando un messaggio in chat e ti dico che sono tornato va bene prego puoi continuare tranquillamente prego allora dicevamo che ci sono appunto delle modalità di uccisione molto specifiche quindi per esempio il taglio della gola per far fuori uscire il sangue in un certo modo torture messo in atto per una certa motivazione un'azione non può essere affidata a terze persone cioè non può essere commissionato un delitto che ha un carattere di carattere satanico non c'è non c'è verso che venga commissionato deve essere fatto in presenza anche molto spesso degli adepti proprio di tutti gli adepti della setta quindi insomma ci sono delle cose molto precise e particolari anche i giorni scelti e i momenti scelti per per appunto commettere il delitto per esempio fatti in giorni particolari dell'anno gli equinozi solstizi le feste sataniche della settimana un giorno preciso molto spesso il sabato quindi anche quello ore precise o per esempio durante la la luna calante cose molto molto precise i delitti soprattutto devono essere come ho detto prima commessi alla presenza di tutto il gruppo quindi luoghi molto segreti e soprattutto attenzione a questo quando si parla di satanismo acido no non è così ma quando si parla di satanismo formale e si parla di delitti ehm eh di appunto delitti proprio veri e propri eh se vogliamo dire satanici comunque legati al satanismo eh il cadavere non è non viene ritrovato deve essere occultato perché non è che il satanista vuole mostrare qualcosa vuole mostrare niente anzi più si mantiene il segreto eh meglio è quindi è sicuramente eh anche questo un un aspetto un aspetto interessante quindi non ci devono essere tracce del delitto meno tracce ci sono quindi anche le vittime devono essere scelte molto spesso vengono scelte per esempio tra persone eh che sono eh diciamo eh ai margini comunque della società che sono persone che non vengono non hanno neanche eh vicino a sé una famiglia sono persone isolate persone sole quindi in qualche modo nessuno magari o comunque pochi eh possono in qualche modo eh denunciare la la loro scomparsa quindi insomma eh poi ci sono degli elementi invece indicatori precisi di delitti di tipo esoterico e o satanico eh quindi per esempio c'è la dissacrazione di simboli cristiani eh croci invertite o altro utilizzo blasfemo di alcuni oggetti che vengono ritenuti sacri quindi a livello cristiano uso di candele spesso colorate per esempio eh disegni molto spesso nere rosse di vario tipo disegni e incisioni che vengono fatte su muri e anche sul terreno scritture anche in alfabeti che non sono conosciuti eh mutilazioni anche di animali o esseri umani di varie di varie parti per esempio la lingua il cuore le orecchie alcuni organi interni parti di animali per esempio ossa o pelli per fare dei segni sul terreno e quindi eh dove c'è stata proprio effettivamente la cerimonia assenza di sangue su quelle che sono eh sia gli animali sacrificati che anche eh gli esseri umani quindi le persone possono essere eh presenti degli altari molto ornati molto eh con presenza di oggetti per esempio calici coltelli candele anche drappi colorati di vario tipo nere o rosse soprattutto presenza di bambole o simili con anche delle eh mutilazioni quindi ecco angelo è tornato eh bambole con simili mutilazioni o eh spilli per esempio addosso eh ci sono anche per esempio calici eh contenenti anche liquidi colorati o polvere di vario tipo eh vestiti anche da cerimonia stanze con addobbi neri e rossi libri per esempio su satanismo e su rituali ecco questi sono tutti gli elementi magari che possono caratterizzare le scene le diciamo quelle che sono le eh ehm appunto i delitti di tipo esoterico o satanico eh le scene del crimine invece se sono esterne cosa cosa comportano spesso ci sono delle stringhe rosse colorate eh quindi rosse bianche nere simboli su degli alberi sui muri sul terreno eh ci sono delle eh dei corpi che possono essere fatti possono essere tinti con alcune eh tinture molto eh molto specifiche molto particolari per il corpo c'è spesso un cerchio di tre metri di diametro con eh un pentagrammo ci può essere un anello per esempio disegnato in terra con eh anche delle tracce di eh di bruciature intorno quindi ecco ehm ah eh Paolo mi dice eh scusa Paolo se prima ti ho chiamato Paolo avevo letto male il nome eh Paolo mi chiede le vittime umane non hanno sangue addosso se ho ben capito sì è vero perché molto spesso vengano ripulite vengono rilavate in qualche modo per togliere il sangue che comunque a volte viene utilizzato anche all'interno proprio del rituale però in altro modo per esempio all'interno di calici all'interno di eh di qualche qualche recipiente ecco questo e comunque anche gli animali quando vengono sacrificati non presentano sangue vengono eh viene tolto spesso il sangue ripulito in qualche modo il più possibile ovviamente quello che si può eh poi appunto solo per le scene del crimine ci possono essere ehm un per esempio delle anche collegamenti tra eh il cerchio di cui abbiamo parlato e un corso d'acqua vicino alla scena del crimine e legature e paletti per esempio per legare le vittime in posizioni molto specifiche molto spesso orientate verso anche il corso d'acqua e vittime per esempio in posizioni particolari bocconi, abbracci aperte, eh supine, insomma in modi abbastanza particolari eh che possono in qualche modo ricondurre eh a qualche insomma a qualche rituale eh qui appunto da qui in poi iniziamo a parlare delle bestie di Satana quindi iniziamo a parlare delle bestie di Satana eh è un lavoro come ripeto e sottolineo eh fatto insieme all'avvocato Alessandro Paci quindi ehm allora eh Paolo mi dice sa che Iaria Gambirasio non aveva tracce di sangue addosso ovviamente nel limite delle ferite inferte questo non lo sapevo questo aspetto che non che non sapevo eh non sempre ovviamente quando non si trova il sangue sul corpo si deve per forza ricondurre al satanismo e attenzione eh però insomma ci sono delle delle cose ecco questa è una cosa interessante che per esempio non sapevo e che andrò a approfondire quindi grazie Paolo allora dicevo il caso delle bestie di Satana quindi ehm sono innanzitutto parliamo di un caso che ha portato all'accertamento di almeno quattro vittime eh quindi le vittime sono Mariangela Pezzotta 27 anni fu uccisa il 24 gennaio del 2004 Fabio Tollis 16 anni e Chiara Marino 19 uccisi il 18 gennaio del 98 Andrea Montade 20 anni istigato al suicidio avvenuto per incidente stradale il 21 settembre 1998 eh quindi sì sì no Paolo sono certo di questa cosa no no ti insomma vado a approfondire questo aspetto perché perché mi interessa ecco eh allora dicevo eh come come si ehm buonasera buonasera da Varese che quindi eh eh dal luogo eh che è stato insomma interessato ciao Claire tanti baci ok allora eh Henry 62 mi fa una domanda interessante che però non ho appunto in questo momento non so non so rispondere nel senso il satanismo nasce prima del cristianesimo o del e del giudaismo eh non lo so non lo so questo bisognerebbe andare a vedere perché sinceramente non non lo so è una domanda molto molto interessante comunque tornando al caso delle bestie di satan bloccate R62 fa troppe domande no no anzi no no bene bene faccia domanda eh condanne definitive eh le abbiamo avute per Nicola Sapone due ergastoli con isolamento diurno per 18 mesi Paolo Leone ergastolo con isolamento per 9 mesi Andrea Volpe 20 anni di reclusione con rito abbreviato Mario Macione 16 anni di reclusione Pietro Guerrieri 12 anni e 8 mesi di reclusione rito abbreviato anche lui lui e Volpe hanno avuto il rito abbreviato Marco Dampollo eh 29 anni e 3 mesi di reclusione Eros Monterosso 27 anni e 3 mesi di reclusione Erisabetta Ballarin 23 anni di reclusione a tutti questi casi di cui ho parlato prima le 4 vittime eh ci potrebbero essere altri casi almeno 15 eh casi di suicidi molto molto sospetti di scomparse o morti sospette eh che potrebbero essere in qualche modo ovviamente non ci sono eh non ci sono state prove quindi non ci sono stati legami però eh quando si parla di un eh in criminologia quando si fanno eh le analisi soprattutto per esempio quando si analizza eh un un caso per esempio di omicidi seriali è interessante fare scusa scusa un attimo scusa mi dice Claire non mi vedi come ah non mi vedevi quando ti ho salutato ma ora mi vedi ora mi vedi ah ora mi vedi Claire vabbè Claire tanto la trasmissione sarà anche per visibile anche per non abbonate abbiamo deciso insieme a Alessandro ho chiesto se mi ha piacere lasciarvi le informazioni quindi la puoi rivedere puoi rivedere la parte che ti sei persa stasera domani mattina ciao spero che tu mi veda prego Ale scusa scusa no ma che scherzi allora dicevo che ehm che appunto eh ci sono almeno quindici casi tra suicidi scomparse o morti sospette collegate avvenuti proprio nell'area eh di eh appunto di azione delle bestie di satana e soprattutto soggetti che erano in qualche modo legati da conoscenza amicizia di vario tipo ora quando noi in criminologia si analizza per esempio eh un caso di omicidio seriale e si analizza una serie di delitti che sono avvenuti in un luogo specifico un numero molto elevato rispetto alla norma eh mi viene in mente per esempio per tornare a un caso che Angelo ha trattato il mostro di Udine eh non è chiaro se c'era effettivamente un serial killer oppure no l'unica cosa che è chiara è che eh in un certo lasso di tempo in una certa area specifica ovvero Udine si sono verificati circa sedici omicidi di donne eh in particolare molte eh prostitute ma non solo eh è chiaro che non è mai accaduto prima non è mai accaduto dopo quindi è chiaro che c'è qualcosa di anomalo in quel periodo che poi magari siano coincidenze io alle coincidenze non ci credo però comunque eh in qualche modo diciamo che eh ci possono anche essere in ogni caso cosa si analizza? Si analizza la frequenza di un certo tipo di fatti in un certo tipo di luoghi quindi in questo caso quindici casi di morti sospette eh legate comunque ai soggetti che hanno fatto parte delle bestie di Satana è un po' strano però comunque non ci sono state prove quindi loro sono stati condannati per eh per questi quattro eh quattro delitti uno è un suicidio un'istigazione al suicidio però insomma tre delitti è un'istigazione al suicidio e eh allora innanzitutto eh parliamo appunto di quello che eh che sono le eh le scene del crimine ovvero dove sono verificati gli omicidi eh allora qui eh no stavo leggendo un po' un po' la chat ok eh allora intanto allora io non ti allora non mi devi perdonare Alessandro ora non mi si vede aspetto un secondo mi devi perdonare io non ti metto eh no si vede il vino non ti metto le domande in in sovraimpressione perché vedo che stai impegnato a fare dei ragionamenti quindi però se tu mi vai a leggere le chat ti interrompi il discorso quindi vorrei mettertele io se se va bene certo 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 allora io poi quelle che ritorno interessanti allora voglio anche dire a chi ci sta ascoltando che ci sta guardando se Alessandro o io non dovessimo rispondere alle vostre domande cioè io mette a mettergli nel non riesco a mettergli sovraimpressione a video potete scrivere qua sotto al video quando finisce magari facciamo una puntata domande e risposte se Alessandro sarà così disponibile ma lui fino a maggio poi non potrà più essere presente ergo cortesemente a mettergli pazienti prego grazie ok allora come dicevo ci sono nel caso delle bestie di Satana ci sono da analizzare due scene del crimine perché sono quella appunto nel bosco del duplice delitto Tollis Marino e quella della pezzotta ovvero che è avvenuto proprio all'interno all'interno di un'abitazione quindi è un qualcosa di di chiuso noi abbiamo analizzato abbiamo analizzato le foto che c'è stato possibile insomma ottenere foto fatte dalla scientifica foto insomma ricavate anche da alcuni programmi televisivi che hanno proposto dei documentari quindi insomma tutte foto che si possono chiaramente chiaramente appunto avere cosa è stato allora cosa è stato trovato sul luogo del delitto della della pezzotta allora all'esterno ci sono delle tracce siamo quindi un'abitazione in mezzo ad un bosco quindi dove ci sono c'è un terreno ci sono delle tracce molto fresche di trascinamento quindi insieme un pugnale pugnale militare un sacco di plastica imbrattato di sangue all'interno dell'abitazione c'è una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 38 e una carabina calibro 22 ci sono dei bossoli delle cartucce riconducibili a queste armi proprio dal fuoco e vari oggetti che sono imbrattati di sangue quindi indicanti dei tentativi anche di cancellare delle tracce di tipo ematico quindi tracce di sangue c'è un cunchiario con all'interno della sostanza bianca che poi si è rivelato essere un mix di eroina e cocaina e una bottiglia aperta di spumante con tre calici accanto a questo a tutto questo c'è una misteriosa valigetta nera all'esterno c'è proprio un non locale quindi diciamo all'esterno della casa ma come se fosse una specie di serra piccola serra c'è un serpente vivo all'interno di una teca e una candela accesa quindi qualcosa che magari può far pensare a qualche rituale qualcosa cosa c'era all'interno di questa misteriosa valigetta nera che insomma attira un po' no l'attenzione innanzitutto c'è una valigetta cioè all'interno della valigetta c'erano delle bustine di plastica con delle unghie dei capelli delle fotografie e un quaderno contenente un programma di ipnosi quindi cose un pochino un pochino anomali diciamo un pochino particolari sempre all'esterno viene ritrovato un badile una cariola imbrattata di sangue probabilmente stata utilizzata proprio per trasportare il cadavere e all'interno un giubbotto blu e una stoia macchiati di sangue quindi alcuni elementi che possono far pensare magari a un tipo anche di colluttazione ci può essere stato dalla soglia di questo capanno si intravedeva una specie un corpo che è semisepolto con ancora la mano che in qualche modo fuoriesce dal terreno insieme alla punta delle scarpe quindi si vede qualcosa in realtà è appunto il corpo il corpo proprio di di Mariangela Pezzotta che è stato ritrovato proprio in quella posizione come diciamo si è si è potuto vedere dall'autopsia del corpo di Mariangela è stato possibile notare che c'è stato c'era un'assenza diciamo di lesioni esterne all'infuori del volto e del collo principalmente e il volto era molto insomma era gravemente sfigurato diciamo perché proprio era stato colpito da un colpo di arma da fuoco quindi da distanza molto ravvicinata quindi insomma c'è anche sul collo ci sono dei segni insomma del transito proprio di un proiettile quindi si capisce che cosa bene o male cosa è successo questo per far capire diciamo come si presenta appunto il delitto il delitto pezzotta c'è qualcosa che può ricondurre un pochino a qualche tipo di rituale abbiamo visto abbiamo parlato di una candela abbiamo parlato di una valigetta misteriosa con all'interno delle bustine delle unghie dei capelli delle cose un po' strane ecco però diciamo che si tratta di un delitto non si sa però non sembra che sia un delitto di tipo proprio strettamente rituale sicuramente appunto la persona la vittima era legata a questo a questo giro di di conoscenze era stata la compagna la fidanzata del volpe quindi in qualche modo c'erano dei legami però ecco non si sa non si sa bene se questo si può definire un delitto effettivamente rituale passiamo invece al duplice delitto tollis marino la zona che viene individuata e prende mezzo proprio ad un bosco e presenta in superficie un piccone due contenitori di plastica e il fodero vuoto di un pugnale all'interno durante quindi lo scavo emergono dei vari oggetti emergono quindi dei vari oggetti emerge una una lama di vadile dei guanti di lattice filtri di sigaretta addirittura che insomma in qualche modo c'è un pacchetto di sigarette quindi ci sono delle cose un po' particolari c'è un portafoglio contenente anche una tessera intestata proprio a Chiara e un portafoglio contenente una tessera della biblioteca intestata invece a Fabio c'è uno zainetto con un fermacapelli e sulla fibria ci sono degli diciamo appunto c'è un contenitore con assorbenti e una pillola anticoncezionale quindi è appunto della della Marino cosa allora ora ci sono appunto delle delle immagini insomma che si possono anche vedere si possono trovare anche chiaramente su su internet della scena proprio del crimine e c'è ci sono c'è il recupero proprio di questi di questi resti dei due corpi quindi un un ragazzo e una una ragazza un uomo una donna che sono posti l'uno sull'altro e sono due due persone di giovane età sono proprio appunto Fabio e Chiara allora cosa rivela l'autopsia di Chiara Marino allora rivela che ci sono delle delle lesioni da difesa molto importanti su braccia e mani non meno di 11 e verosimilmente 13 colpi inferti con arma bianca corrispondenti a ferite da taglio e o punta da taglio quindi insomma colpi che erano stati distribuiti principalmente fra torace regione cervicale e almeno uno all'altezza del costato diciamo che questo insomma per far capire un po' come è avvenuto il delitto invece per quanto riguarda la vittima maschile quindi Fabio Fabio Tollis ci sono delle importanti lesioni da difesa quindi anche lui ha opposto resistenza almeno 12 colpi di arma bianca e quindi 4 all'emitorace sinistro 2 all'emitorace destro 2 all'addome 2 all'omero e 2 alla mano quindi da difesa chiaramente da difesa c'è un colpo inferto in regione cervicale che è compatibile con un'azione di taglio della gola praticamente sguazzamento quindi ci sono queste diciamo referti anche dell'autopsia fanno capire come il delitto sia stato cioè in qualche modo ci siano state le reazioni di difesa anche molto importanti da parte delle due vittime quindi ecco questo va sottolineato perché a volte vengono fuori delle cose però insomma se si va poi a vedere effettivamente quali sono gli atti quali sono i verbali anche le perizie dal punto di vista medico legale si capisce che certe cose alcune sono leggende ecco quindi bisogna stare un po' attenti a certe cose ecco quali possono essere le conclusioni conclusioni effettuate soprattutto a parte dei periti colpi su regioni diverse da mani e braccia implicavano l'interessamento anche di parti di organi vitali quindi che hanno portato poi anche alla causa proprio di morte delle vittime quindi ecco queste possono essere state appunto la causa principale di morte per quanto riguarda invece l'istigazione al suicidio di Andrea Bontade ecco lì si può dire poco nel senso che comunque c'è un incidente stradale apparentemente incidente stradale però ecco quello che un pochino mette dei dubbi è il fatto che c'era una buona illuminazione in quel punto manto stradale asciutto e fondo completamente regolare quindi senza niente potesse far pensare a una problematica di tipo stradale assenza di tracce materiali proprio sul sul fatto della frenata quindi non ci sono non ci sono state né manovre né tentativi di frenata né tentativi di manovra di nessun tipo quindi un incidente un po' particolare ecco che ha poi portato c'è poi una dichiarazione proprio di Andrea Volpe che dirà che hanno lui credo che lui e Leoni non mi ricordo se erano lui e Leoni o un altro comunque lui sicuramente consegna le chiavi a Andrea Bontade quella sera le chiavi della macchina e gli dice te o ti uccidi te con la macchina oppure ci pensiamo noi quindi insomma questo è un po' la modalità che utilizzavano ecco le bestie di satana per far capire che soggetti diciamo che tipologia di soggetti è chi è chi sono queste bestie di satana allora sono ragazzi d'età che hanno un'età compresa tra 16 e 30 anni sono tutti nati e cresciuti nella provincia lombarda hanno una grande passione per la musica heavy metal questo non è assolutamente niente di particolare però se unito all'occultismo rientra proprio in quelle che sono le caratteristiche del satanismo acido e un'altra caratteristica è quella del consumo di alcol e droga che loro fanno abitualmente il nome bestie di satana in realtà sembra che l'abbiano scelto loro quindi è quello che identifica proprio il gruppo che scelgono poi un soprannome per ogni per ogni soggetto quindi anche questo è un qualcosa che si entra proprio all'interno delle delle dinamiche delle appartenenze di gruppo e quanto e quanto ci può essere legato proprio alle dinamiche di gruppo a quale attività loro si dedicano per loro dichiarazioni questo si sta a quello che loro hanno dichiarato quindi non si va oltre sedute spiritiche rituali per maledire i propri nemici rituali con riferimento chiaro al satanismo consumo di alcol e sostanze musica heavy metal con minacce e intimidazioni fino ad arrivare anche a violenza fisica aggressione proprio fisica verso i componenti dei gruppi rivali cioè loro andavano a fare queste ora chi se c'è qualcuno qui del posto insomma che ha anche avuto modo di vivere quegli anni loro andavano a suonare nei vari locali insomma vari posti e facevano magari anche delle specie di piccoli quelli che si fanno in questi posti tipo piccoli concorsi di musica con altri insomma con altri gruppi e loro sono arrivati anche proprio a fare delle minacce molto gravi nei confronti di altri gruppi di altri soggetti che erano all'esterno del loro gruppo com'è che si entrava a far parte delle veste di satana allora secondo quelle sono le testimonianze di quelli che hanno deciso poi di collaborare alle indagini hanno detto che c'erano principalmente tre tipi di prove c'erano prove di umiliazione ci si doveva umiliare pubblicamente quindi in pubblico prove di fedeltà quindi essere disposti anche a rischiare la propria vita per il gruppo e prove di coraggio dimostrare quindi per esempio fare appunto farsi dei tagli in diverse parti del corpo saper uscire da un bosco in piena notte dopo aver assunto allucinogeni quindi insomma queste cose qua chi erano i leader spirituali e in qualche modo diciamo anche da un punto di vista formale allora innanzitutto il leader se proprio si vuole dire spirituale era Paolo Leoni soprannominato Evol quello un pochino più formale era Nicola Sapone che era chiamato Onussen era il suo soprannome che insomma è nessuno all'incontrario e anche Paolo Leoni Evol è Love all'incontrario Love chi erano gli altri componenti del gruppo noti perché poi non è detto che ci potessero essere altri soggetti allora uno era Mario Maccione Ferocity ecco su Mario Maccione vorrei aprire una piccolissima parentesi noi abbiamo deciso io e il mio collega di non prendere in considerazione le dichiarazioni di questo soggetto perché insomma leggendo quelle che erano insomma i verbali e le sue dichiarazioni si è contraddetto tantissime volte parlava di sacrifici umani fatti da una setta che era a un livello superiore è l'unico che ha parlato di queste cose ora sinceramente non ci sono prove in tal senso non sono mai stati trovati i corpi di queste vittime quindi non si può parlare non si può sapere ecco non si può dire con certezza questa cosa quindi però noi abbiamo insomma deciso un po' tra l'altro soggetto molto particolare insomma dichiarazioni un po' diciamo anche in qualche in qualche senso anche deliranti proprio quindi poi c'era Andrea Volpe chiamato Isidon c'era Pietro Guerrieri Lioz e Eros Monterosso Caos e poi c'era Elisabetta Vapallarin che era la donna del gruppo allora mi senti sì sì ti sento tra l'altro voglio annunciare che sto cercando di contattare Elisabetta Vapallarin che io ritengo una bellissima donna può prescindere da quello è successo ma insomma infatti oggettivamente lo è e volevo vedere se gli riuscivo a strappare un'intervista sul canale magari con l'aiuto di Alessandro che è psicologo lei naturalmente adesso è diventata una brava persona non facciamo voglio dire non facciamo io almeno io non faccio fatica a credere anzi si è laureata anzi e se te mi ricordi qual era la vittima che si chiamava Chiara Chiara Marino Chiara Marino esatto il papà di Chiara Marino l'ha praticamente perdonata ed ha assistito alla sua laurea e quindi è stato come dire insieme al papà esatto si dice lei si è diventata una brava persona noi non facciamo fatica a credere ci mancherebbe altro e quindi stavo dicendo che sto tentando di tutto perché su Facebook non la trovo e sto tentando di tutto per cercare di contattarla e farla venire qua in trasmissione ecco volevo dire questo ok no della pezzotta forse dice la pezzotta della pezzotta reverente sì forse della pezzotta non vorrei dire una cosa per un altro allora grazie tanto sono in conclusione allora quali sono gli elementi gli elementi comuni no di queste questi soggetti che facevano parte del gruppo hanno storie familiari abbastanza problematiche e complesse alcuni di più altri meno sono soggetti con tratti di personalità particolari in particolare borderline e dipendenti di personalità in particolare la insomma alcuni alcuni soggetti sono proprio chiaramente dipendenti molti sono borderline consumo di alcol e droghe e passione per l'occultismo e la musica heavy metal estrema però questi sono gli elementi comuni non che ci sia niente di male in tutto questo come come commettono gli omicidi allora tutte le vittime fanno parte facevano in qualche modo in un momento o in un altro parte del gruppo quindi o facevano parte o ne avevano fatto parte tutte le vittime avevano infranto una delle regole fondamentali del gruppo onorare gli impegni divieto di tradire compagni e quindi parlare di ciò che avveniva all'interno del gruppo all'esterno massima fedeltà al gruppo e impossibilità di abbandonare la setta quindi in qualche modo tutte le vittime avevano violato uno di questi di queste regole come mai si sceglie di di eliminare un certo soggetto dove come quando erano decisioni che tutto il gruppo prendeva insieme il duplice delitto tollis marino è per scegliere il luogo dove uccidere sono stati fatti dei sopralluoghi a quello che ci è stato dichiarato sono anche stati fatti dei tentativi non andati a buon fine cioè il duplice delitto doveva essere fatto in altri momenti è stato preparato anche tutto proprio nei minimi dettagli tanto che lo scavo della fossa era stato fatto prima per non destare dei sospetti quindi quindi è questo quello che insomma è emerso Bontade è stato in qualche modo in qualche modo contannato a morte per non aver rispettato quelli che erano gli impegni che si era comunque preso e la pezzotta invece viene attirata proprio in questo chalet di Gola Secca dove viene uccisa con una scusa e quindi poi viene uccisa lì queste sono per far capire gli omicidi in conclusione arrivando proprio a concludere perché noi abbiamo concluso diciamo questa nostra questo nostro incontro questo nostro doppice incontro perché abbiamo fatto l'altra volta abbiamo fatto questo io appunto ho rifortato semplicemente diciamo i dati nel senso quello che è emerso per quanto riguarda le bestie di Satana ognuno può trarre le sue conclusioni siccome sono venute fuori anche stasera delle teorie delle cose noi siamo arrivati appunto a concludere questo nel senso che si può trattare di satanismo acido quello delle bestie di Satana non si può trattare secondo noi di altro ovvero di cose più formali più che richiedono livelli di altro tipo perché non è emerso niente almeno da quelli che sono i dati che abbiamo potuto analizzare noi in conclusione arrivando quindi a concludere proprio tutti e due i nostri incontri semplicemente voglio appunto indicare tre tipologie di satanismo che quindi abbiamo analizzato nella nostra nel nostro escursus allora c'è il satanismo reale ovvero rituali che sono standardizzati quindi sette numerose anche molto segrete sacrifici sia animali che umani molto più rari umani abbiamo visto ma anche animali non frequentissimi messe nere fatte da soggetti in modo appunto occulto quindi questo è il satanismo reale c'è il satanismo fai da te che è quello anche satanismo acido satanismo giovanile c'è una presenza sì di rituali ma non molto standardizzati quindi omicidi e anche altri reati chiari riferimenti anche al satanismo e all'occultismo altri reati intendo anche per esempio profanazione di tombe di altri furti di vario tipo violenze sessuali varie cose e infine c'è un ultimo un ultimo tipo di satanismo il satanismo non provato ovvero ipotesi di satanismo dietro a delitti risolti leggende metropolitane sette che agiscono e uccidono bambini in modo appunto segreto che però nessuno ha mai saputo niente complottismo e anche cose legate a quello che è l'aspetto del complottismo quindi questo è un aspetto che viene utilizzato anche molto dai media per esempio perché appunto crea un po' di come si può dire attira attira molto l'aspetto satanico e quindi quando c'è un delitto risolto soprattutto in Italia si associa al satanismo le sette livelli e quanto altro quindi ecco questo è abbastanza abbastanza frequente io per me io ho concluso Angelo allora benissimo benissimo no stavo valutando l'idea ho detto non la voglio lasciare solo per gli abbonati per il momento poi vedremo vedremo un attimino si prego forse ci saranno dei cambiamenti a livello di come dire di relatori al convegno mi toccherà purtroppo a mia come dire senza non mi viene la parola insomma anche non volendo mi toccherà lasciare fuori qualcuno perché non ci si comporta male con il Marotta non ci si comporta male benissimo detto ciò allora Alessandro tu hai fatto una una sorta di escursus non dico bene come parola si aspetta un attimo buonanotte e hai fatto un escursus riguardo tutto il satanismo come dalla prima puntata ci hai spiegato il perché come come lavorano come si formano che tipo di satanisti esistono eccetera 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 ci hai fatto ci hai parlato del satanismo ad ampio spettro io vorrei se tu fossi d'accordo se riuscissimo veramente a trovare Michele e a far partecipare a lui in trasmissione se tu volessi realmente parlare con noi per fare una chiacchierata così tra di noi per appunto non allora volevo rispondere a chi era Davide Colpo Elisabetta Valarini sì lo so che ha fatto di tutto per uscire dalle vestisate per non far farvi vedere però è stato anche condannato ora è uscito fuori insomma noi non stiamo incolpando nessuno no no assolutamente anche perché la donna nel senso non la donna del gruppo nel senso era l'unica presenza femminile che ha in qualche modo prima anche la pezzotta era all'interno poi dopo sì sì ma no no il problema è questo cioè qui noi in questa trasmissione non stiamo incolpando nessuno è stata la giustizia italiana che l'ha incolpata e l'ha condannata e l'ha anche l'ha condannata e l'ha fatto fare qualche anno di carcere quindi non sta a noi decidere non siamo giudici no assolutamente io dico io ho detto soltanto che la ballarin volento non è niente è entrata in questa storia e adesso ne è uscita ed è diventata una brava persona è stata condannata a 23 anni di reclusione non so quanti se ne sia fatti però adesso è fuori mi sembra che il giorno sia fuori ho visto un documentario che è molto bello vi esorto ad andarlo a vedere perché è molto bello benissimo allora sì è stato un processo assurdo io ringrazio infinitamente Cariuro la puntata al momento rimane solo per gli abbonati mi dispiace gli altri se voglio si abbonano 99 centesimi se non avete 99 centesimi io mi farei delle domande va bene magari non mi interessa l'argomento e vi aspetto al convegno contattate la Barbara noi ci sentiamo lunedì sera perché domenica 4 chiacchiere o scuffio non lo facciamo perché è Pasqua lunedì sera da ora in poi 4 chiacchiere con Giurleo le faremo il lunedì sera alle 21.30 quindi lunedì sera alle 21.30 io vi saluto l'altro l'uomo con il muto grazie per il sostegno e mi aspetto lunedì sera prego Alessandro no voglio salutare anch'io tutti ringrazio Deborah che mi dice insomma che gli è piaciuto e ringrazio tutti per le domande e per quello che insomma è stato possibile discutere su un argomento che insomma è molto molto delicato e come si diceva prima insomma anche quest'ultima parte sulle bestie di Satana insomma ci sono delle condanne definitive addirittura ci sono soggetti hanno già scontato la loro pena quindi insomma è giusto per si parla di cronaca certo quindi Roberta Roberta ma c'è un parente che si chiama Luca chiedo prego prego no no niente ho finito saluto tutti e vi ringrazio anch'io e ringrazio anche te Angelo Alessandro mai mi conosci io sono più polare come dico una cosa anzi serve la memoria si serve la memoria esatto si mi conosce sa che sono di carattere fatto in questo modo tanto poi ne parliamo non sto parlando attualmente Alessandro che probabilmente non farò bene al convegno ma di un'altra persona bene io vi saluto e il cielo di Roberta sono Luca ecco vedi e il cielo di Roberta sono Luca grazie Luca ma non immaginavo sai che tua moglie immaginavo che tua moglie non guardasse la trasmissione non mi sembrava molto interessata la cena all'argomento bene vi saluto con la tromba e con il mudo anzi sono qui ve lo dico davanti a tutti lo dico a Alessandro ho intenzione quando si potrà ci si potrà muovere di invitare Alessandro e Lisa o Elisa senza E Lisa li voglio invitare a cena una sera sto invitando tutte le persone che partecipano alla trasmissione quindi invito anche ufficialmente Alessandro e la sua fidanzata la sua consorte perché tanto quando ci si potrà muovere poi fisseremo un giorno vabbè non so ma magari domenica vedremo un po' grazie rimane lì ciao a tutti grazie grazie a tutti buonanotte